Sono molto felice di essere ospite del Premio Carli e ringrazio moltissimo la Presidente Romana Linsu perché il Premio Carli non è un premio, è qualcosa di molto di più, è una motivazione, è un'ispirazione è qualcosa dove te trovi la fiducia nel futuro. Io ascolto le dichiarazioni dei premiati, le cartelle in cui vengono presentati e sempre mi si apre una visione, una prospettiva. Devo dire che io credo che l'Italia debba moltissimo a Guido Carli, la nostra democrazia, la nostra economia, ma questa è una magnifica eredità di valori che la nipote ha saputo portare e rendere vivi. Trovo che è molto importante che nel panel dei premiati ci siano non solo alcune donne così di rappresentanza ma una parte rilevante, addirittura la maggioranza sia donna. Perché noi donne, vedete, io sono convinta che noi abbiamo bisogno di credere in noi stessi e abbiamo bisogno di trovare dei modelli e abbiamo bisogno che ci dicano guarda se sei bravo noi ce ne accorgiamo. Grazie, Fondazione Carli.